Buongiorno, è per me un grande piacere rivolgermi a voi, anche se a distanza, in occasione di questo evento speciale e storico, il Forum dei Balcani 2020 contro l'antisemitismo. In primo luogo vorrei congratularmi con il Parlamento della Repubblica Albanese, che ho visitato all'inizio di quest'anno, e con i partner il Movimento per la lotta all'antisemitismo e l'Agenzia Ebraica per Israele, per aver organizzato per la prima volta un evento di questo tipo. Credo che questo rappresenti uno sforzo straordinario, un segnale importante per informare e ispirare le nostre opinioni pubbliche. Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questi tempi difficili. Come tutti voi sapete, la lotta contro l'antisemitismo, contro ogni forma di intolleranza, di odio, di discriminazione o di esclusione è profondamente radicata nel DNA dell'Unione Europea. Ha infatti il fondamento stesso della nostra esistenza. Mai più è stato e sarà sempre il più importante imperativo che sta alla base di tutti i nostri sforzi. Mai più alla persecuzione delle minoranze, all'antisemitismo, al nazismo. Mai più all'odio, alla violenza, alla guerra. Eppure vediamo con orrore che l'antisemitismo non solo esiste ancora in Europa, ma che negli ultimi anni è una tendenza addirittura e terribilmente in crescita. L'abbiamo visto per le strade di Hall, in Germania, dove un estremista di destra ha tentato un atto fanatico per uccidere degli ebrei durante lo Yom Kippur. Ma senza arrivare a questi esempi estremi, gli studi o le ricerche dimostrano che gli ebrei subiscono discriminazioni antisemite ripetutamente. Vengono insultati, le loro proprietà vengono danneggiate, vengono discriminati sul posto di lavoro o nella loro vita privata. Sono oggetti di attacchi anche sui mezzi di comunicazione di massa. La vergognosa e triste realtà è che nel 2020, 75 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, molti ebrei in tutta Europa non possono vivere una vita senza preoccupazioni. Ciò che è altrettanto preoccupante è la tendenza ad una sorta di normalizzazione di questo tipo di incidenti, come testimonia la retorica di alcuni discorsi pubblici, il linguaggio di alcuni media e quello che succede in svariati contesti quotidiani. Questo dimostra che non dobbiamo mai adagiarci, che non dobbiamo mai fermarci, che non dobbiamo mai imporci di pensare che quella storia che 75 anni fa pensavamo conclusa davvero non si ripresenterà. Abbiamo l'obbligo di agire ogni volta che la violenza, la discriminazione si incorniciano con il nostro cammino, ogni volta che l'antisemitismo e il razzismo rialzano la testa nelle nostre società. Dobbiamo sempre guardare a questi fenomeni per quello che sono, un attacco alla dignità delle persone e all'idea stessa di un'Europa democratica. Recentemente l'Albania ha fatto dei passi molto importanti in questa direzione. A nome del Parlamento europeo mi congratulo con tutti voi. Approvando la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, avete ufficialmente aderito agli sforzi globali per la lotta contro l'antisemitismo, indicando la strada anche ad altri. Questa decisione riflette anche quella che è la vostra orgogliosa storia di Paese, che nelle ore più buie della storia europea si è impegnato a proteggere gli ebrei, il coraggio che il vostro popolo ha dimostrato proteggendo, nascondendo coloro che fuggivano dalla morsa del regime nazista. Tutto questo è un chiaro segno della vostra umanità. Non posso che augurarmi che l'esempio che avete dato allora e che date oggi sia un esempio che verrà seguito dalle altre nazioni dei Balcani e di tutto il mondo. Perché questa lotta non può essere vinta da un solo Paese, da una sola comunità o da una sola istituzione. Contro l'antisemitismo dobbiamo creare un fronte unito che raggiunga tutto il mondo e che si impegni affinché le azioni concrete contro l'odio e il bigottismo siano intraprese in vari ambiti della politica, dell'educazione, della società civile e della vita quotidiana. Il vostro impegno nella lotta contro l'antisemitismo è anche un forte richiamo al fatto che siete sulla strada giusta per aderire all'Unione Europea. Come ho detto a febbraio durante la mia visita a Tirana in Parlamento e come ho ribadito in molte altre occasioni, il Parlamento europeo sostiene con forza la prospettiva europea dell'Albania e dei Balcani occidentali. Siamo convinti della vostra appartenenza non solo geografica ma anche politica. Unire le nostre forze in questa causa che fin dai giorni della sua fondazione contribuisce a definire l'Unione Europea. Questa è l'ennesima prova che condividiamo un destino comune, che abbiamo un futuro da vivere insieme. Speriamo di poterci incontrare fisicamente al più presto e buon lavoro a tutti.